Cuore di topo, capitolo 21. Fate attenzione al vostro cuore. Una volta rotto è difficile trovare i pezzi di ricambio. Fortunatamente trovo subito la striscia d'unto sulla parete di casa Brofi che io e Michaela avevamo seguito la prima volta. Mi conduce fuori dal giardino posteriore infestato da erbacce e giù nell'accogliente tana comune. È vivo! grida Gabriel quando entro. Isaia è sopravvissuto! Sono tutti riuniti attorno al tavolo con le scodelle fatte di gusci di ghianda pieni di cibarie e dei nostri bomboloni conquistati a caro prezzo. James il saggio si alza dal suo trono di tale. Ben fatto Isaia! Gabriel e Gilbert ci hanno detto del coraggio con il quale hai affrontato l'infido gatto Sphinx, Lucifero, di come hai protetto i tuoi confratelli e ci hai fornito il pasto di questa sera, uno dei migliori che i miei stanchi occhi di vecchio topo abbiano mai visto. Da oggi in poi i topi canteranno del tuo trionfo contro il distruttore dai perfidi occhi. Alza un chicco di gran turco appena staccato dalla pannocchia che abbiamo portato via da sotto il tavolo con il tovagliolo sporco di Duane. Alzo questo boccone in tuo onore, Isaia il coraggioso. Hip hip! Hurra! gridano tutti i miei nuovi fratelli, sorelle e cugini di secondo grado. Isaia il coraggioso? Beh, in realtà non saprei. Isaia lo stupido mi sembra un titolo più appropriato per un topo che decide di rischiare la vita nella remota possibilità che le sue pagliacciate ispirino la più leggiadra creatura del mondo a cantare le sue dolci melodie. A proposito di Michaela, la vedo seduta all'estremità opposta del tavolo. Mi dirigo verso di lei guadagnandomi un altro giro di calorosi hip hip hurra e batte il 5 lungo il tragitto. Signorina Michaela, mi auguro che tu stia gradendo il dessert di questa sera come sembravi gradire il cornetto alla crema di ieri. Come forse avrai sentito da Gabriel o Gwindel, ho rischiato la vita per andare a prendere quelle lecornie proprio per te. Faccio ruotare una zampa davanti al muso e mi produco in un inchino piuttosto elegante se posso dirlo. Grazie Esaia, risponde Michaela. Sei quasi altrettanto dolce dello zucchero su questo bombolone. Sto arrossendo, il che significa che le mie guance blu stanno virando al viola. Michaela mi guarda dritto negli occhi. A proposito, i suoi grandi occhi marroni non solo sintonano al suo mantello, ma sono anche meravigliosi. Esaia mi dice, con voce dolce e sua dente, so quanto hai apprezzato ciò che hai sentito nel nostro primo incontro. Ci siamo. Michaela sta per esprimere la sua eterna gratitudine per il mio eroismo da cacciatore di dessert cantando ancora per me. Trae un profondo sospiro. Arriva. Ma non canto, sussurra. Sì che canti, le rispondo deluso. Ti ho sentito. Solo perché non sapevo che eri lì, sta ancora sussurrando, per essere certa che nessuno senta quello che mi sta dicendo. Le topoline non cantano. Ma Michaela emette un sospiro di frustrazione. Tu non sei un topo normale, perciò non lo capisci. In questa famiglia le femmine non devono cantare. Dobbiamo lavare e asciugare le scodelle di ghianda e occuparci dei bambini. Potrà non piacermi, ma le cose stanno così. Essere diversi non è una buona cosa. Poi si gira verso la minuscola topina seduto di fianco a lei. È una bimba che ha bisogno di aiuto per tagliare il suo polpettone. È allora che mi rendo conto. Michaela mi sta dicendo che per quanto io possa provare, per quanti dessert riporti eroicamente nella tana, questa non sarà mai la mia vera casa. La colonia di Michaela non sarà mai la mia vera famiglia. Sono troppo grottescamente diverso. Esco alla chetichella dalla sala da pranzo. Salterò la cena. Voglio solo sdraiarmi su un letto di paglia dove poter sospirare e fissare il soffitto. Realizzare la triste realtà della mia ancora più triste situazione mi fa sentire più depresso che mai. Cuore di topo. Capitolo 22. Il migliore maestro di un topo è il suo ultimo errore. La mattina dopo di buon'ora, mentre Michaela e gli altri topi della sua colonia notturna dormono, io esco a prendere una boccata d'aria fresca. Ebbene sì, questa è una prova ulteriore di quanto siamo diversi. Io sono fuori sul prato, bagnato di rugiada, con il sole che mi scalda i baffi. Michaela e la sua famiglia restano comodi nei loro letti, sognando polpettoni e pure che cadono dal cielo. Ho deciso, dopo un accurato esame di coscienza, che ho la necessità di rifocalizzare i miei sforzi. Il mio interesse principale non sarà più quello di andare in cerca di leccornie, nella speranza che possano in qualche modo ispirare Michaela a cantare per me. Utilizzerò invece le mie eccezionali qualità e talenti nel rinnovato tentativo di ricongiungermi con la mia vera famiglia, la colonia nella quale tutti i topi sono speciali quanto me. Alcuni sfoggiano perfino un vocabolario di gran lunga superiore al mio ed espressioni tipo di gran lunga superiore le usano in continuazione. Temendo che la rugiada mattutina possa avere cancellato le mie tracce qui a Sobborgilandia, vado a fare un giretto per marcare di nuovo il territorio con il mio aroma distintivo, la mia Eau d'Eisaia, se preferite. Se Winnie o Abe dovessero cogliere una zaffata del mio intenso aroma, sono quasi certo che verrebbero di corsa a cercarmi. Mentre gironzolo nel vicinato, sfregandomi su qualsiasi cosa ci si possa sfregare sopra, noto quanto siano più belle tutte le altre case della via in confronto alla faticente dimora dei brofi. Per esempio, la casa sul lato opposto della strada dei brofi è pulita o ordinata con un sacco di fiori e l'erba di un verde luminoso. Sto ammirando il panorama quando un'ombra volteggia in un arco rapidissimo attraverso il prato verde smeraldo, poi volteggia di nuovo. Alzo lo sguardo è un uccello che gira in tondo dritto sopra la mia testa. Come sapete non sono un grande appassionato di uccelli. Gli uccelli invece sono molto appassionati di topi. Adorano mangiarci. Questo particolare uccello, indubbiamente affamato, mi ha messo nel mirino. Ho la sensazione che a breve scenderà impicchiata per uccidermi. Ma poi si sente un rumore. Un clangore metallico e un colpo sordo. Spaventato, l'uccello batte le ali e vola via. Guardo il portico davanti alla casa. Una ragazzina in vestaglia ha appena spalancato una pesante porta di legno con tale violenza da far sbattere sulla parete il battente d'ottone. La ragazza raccoglie un giornale avvolto in un foglio di plastica azzurro e torna dentro. Temendo che l'uccello affamato possa ricomparire, da un momento all'altro, corro verso il retro della casa dove le cime degli alberi sono più frondose, comunque abbastanza folte da impedire a un uccello di cogliere i miei movimenti. Beh, indovinate un po'? Anche questa casa ha uno sportello per animali. Nel corso del mio breve soggiorno a Sobborgilandia ho notato che gli umani, in modo molto simile ai topi, tendono a fare le cose in gruppo. Guidano lo stesso tipo di automobili, installano sportelli per animali, addobbano i loro giardini con gli stessi tipi di fiori, arbusti e decorazioni da prato. Nei giardini sul retro molte case hanno perfino un contenitore di becchime e una vaschetta per uccelli. Questa ce li ha. Ed entrambi sono pieni zeppi di uccelli abbastanza tosti da spaventare gli scoiattoli. Una ghiandaia azzurra dall'aria minacciosa che sta becchettando dei semi gira di scatto la testa verso di me. Per leggerle nel pensiero mi basta studiare i suoi occhietti e osservare le sue ali contrarsi. Mmmh, sembra stia pensando, un succulento topolino o semi di girasole secchi? Quale dei due è più delizioso? So che sceglierà me al posto di quei miserabili semi perché gli uccelli preferiscono sempre i topini ai semi. Perciò faccio anch'io la mia scelta. Mi lancio verso lo sportello per animali sul retro della casa ed ecco che mi ritrovo ancora una volta in un mondo del tutto nuovo. Capitolo 23. Se non vuoi guai non andarteli a cercare. Sul lato opposto dello sportello c'è un cane. Avrei dovuto prevederlo. Chi ha bisogno di uno sportello per animali se non ha animali? Questa volta si tratta di un cane molto piccolo con un fiocco rosa e un collare rosa. Dato che la cagnolina appare amichevole, sta agitando la coda e piuttosto graziosa, tento di comunicare con lei in modo telepatico. Ciao simpatica cagnolina, il mio nome è Isaia. La cagnolina raddrizza la testa come se capisse quello che sto pensando. Perciò continuo. Vengo in pace e spero che in breve tu e io potremo diventare amici anche perché abbiamo un nemico comune, i gatti, specialmente nella variante pelata. Potrei cortesemente entrare nella vostra cucina dato che sto cercando di fare colazione. Bada bene, intendo solo per me. Le mie giornate da ladro per conto di altri sono ufficialmente finite. Inoltre vorrei aggiungere che hai davvero buon gusto nella scelta degli accessori. Quel fiocco rosa ti sta benissimo. La cagnolina ansima, scuote la coda e grida molto forte. Come forse ricorderete le mie orecchie sono piuttosto sensibili, in particolare agli hip e agli yap. Hip hip hip. Forse la cagnolina sta solo cercando di salutarmi nel suo linguaggio canino alquanto primitivo. Perciò ricambio il saluto. Hip! Grido. Hips! Guaisce la cagnolina. Oh santo cielo, credo di averla spaventata. Zampetta frettolosamente via con la coda tra le gambe. Affascinante. Ho appena spaventato una creatura molto più grossa di me. Inizio a capire perché Benji e parecchi altri membri della mia vera famiglia continuavano a incoraggiarmi a essere più audace. Essere coraggioso ha i suoi vantaggi. Per esempio, ora che il cane da guardia ha abbandonato la sua postazione, noto che i lindi e ordinati banconi di questa cucina ospitano un'abbondanza di delicatezze. Vedo della frutta in una ciotola, pane su un tagliere e a giudicare dal profumo di cannella dolce qualcosa di delizioso in una scatola di cartone. Opto per la frutta, scelta più sana e nutriente. O mi lancio sulla misteriosa leccornia nella scatola. La decisione più facile di sempre. Mi arrampico sullo schienale di una sedia d'ondolo e da lì salto su una scrivania con computer che uso come trampolino per saltare sul bancone dove giace la scatola blu dal dolce profumo. La scatola ha una finestrella di plastica, oltre la quale vedo un paesaggio frastagliato fatto di grumi di zucchero di canna. Leggo le parole stampate attorno alla finestra di plastica. Entenmann, la regina delle torte di briciole. Beh, accidenti, questa non è una comune torta di briciole, questa è la regina, il punto più alto nella creazione delle torte di briciole, il picco assoluto della torta di specialismo. Devo provarla immediatamente. È facile tagliare la sottile finestra di plastica con un rapido colpetto di artigli. In men che non si dica, sono dentro alla scatola, a rotolarmi tra i grumi di burroso zucchero di canna profumato di cannella. Affondo la testa nella torta. È deliziosa. regale, oserei dire. Riemergo a prendere aria, pronto a rituffarmi nell'umida morbidezza della torta. È in questo momento che la ragazza entra in cucina. La ricordate? Quella in vestaglia sul portico? Ha in mano un giornale arrotolato. E ora noto qualcos'altro. Non per essere scortese, ma ha un aspetto un po' bizzarro. Anche se sembra un adolescente, i suoi capelli sono bianchi come il ghiaccio. Perfino le sue ciglia. E i suoi occhi? Diamine, sono più blu del mio mantello. Inoltre, mi sembra malata. Ha un termometro che gli pende dalla bocca, il che significa che forse ha la febbre. Oh, spero non sia contagiosa. Gli umani si preoccupano molto di noi topi e delle malattie che a loro parere trasmettiamo, confondendoci un'altra volta con i ratti. Ma diciamolo francamente, gli umani trasmettono molte più malattie dei topi. Oh no, mi ha appena visto. La sua bocca si spalanca. Male per il termometro. Le cade dalle labbra e si fracassa per terra. Devo ricordarmi di stare attento alle schegge di vetro, mentre lei mi insegue per tutta la cucina. E poi naturalmente fa una cosa che, in quanto topo, sono fin troppo abituato a vedere e a sentire. Grida. Cuore di topo. Capitolo 24. Mai ballare sul naso di un gatto che dorme. Ho bisogno che questa signorina, grido un sacco, si calmi immediatamente. Altrimenti altri umani adulti potrebbero entrare di corsa in cucina e picchiarmi con un giornale arrotolato. Un momento, anche lei ha un giornale arrotolato e mi sta arrivando addosso pronta a schiacciarmi dentro alla torta. Intrappolato nella finestrella di plastica, non ho vie di fuga. Non ho scelta. Devo fermarla. Ferma! Grido. D'accordo, non funziona. Dimenticavo che la voce di un topo è ultrasonica e viaggia a una frequenza altissima che gli umani non sono in grado di sentire. I suoi occhi blu cristallo le stanno schizzando fuori dalle orbite e adesso sta gridando ancora più forte. L'apice dell'urlo è tre ottave più alto. Ha quasi raggiunto un livello da topo. A dire il vero è talmente alto che devo coprirmi le orecchie e tuffarmi nella scatola di cartone. Forse, se immergo la testa nelle briciole sulla superficie. Quella è la mia colazione, strilla la ragazza. Hai contaminato la mia torta di briciole. La torta di briciole è la mia preferita. Ok, questo spiritello dai capelli bianchi mi sta davvero spaventando. Mentre lei continua a gridarmi contro, mi sposto verso il buco che ho fatto nella plastica. Lei solleva il giornale arrotolato dietro la testa come fosse un'accetta. Questo mi concede una frazione di secondo per fare una cosa che so essere assolutamente severamente proibita. Non l'ho mai fatto davanti a un umano perché avrebbe reso la vita nel luogo orribile ancora più orribile. È assolutamente pericolosa e probabilmente sciocca. Ma la ragazza sta prendendo la mira. Devo farlo adesso. Schizzo fuori dalla scatola, attraverso come un razzo il bancone, salto sulla scrivania e mi metto a ballare. Sulla tastiera del computer. Questo fa infuriare la ragazza ancora di più. Abbassa l'arma ma continua a gridarmi contro. Scendi dalla tastiera topo, se la rompi io rompo te. Mentre ballo, ticchettando sui tasti, cerco in tutti i modi di far sì che la ragazza guardi lo schermo del computer. Agito le zampe, drizzo la testa, indico con la coda. Probabilmente lei pensa che faccia parte della coreografia. Guarda! Squittisco disperatamente. Lei si limita a socchiudere gli occhi e a sollevare di nuovo il giornale arrotolato. Ti ho avvertito topo! Per favore! Grido, ma naturalmente la ragazza non mi può sentire. Ho bisogno che guardi lo schermo del computer prima che mi prenda ammazzate per tutta la cucina come fosse una pelosa pallina da golf blu. Danzo più in fretta. Agito furiosamente le zampe, la testa e la coda verso lo schermo. Lei mi sta arrivando addosso in fretta. Solleva il giornale arrotolato ben sopra la testa. Chiudo gli occhi. So cosa sta per arrivare. Mi tengo forte e poi cuore di topo. Capitolo 25. A volte le parole valgono più di mille parole. Sollevo lentamente una palpebra. Terrorizzato, ma con gli occhi socchiusi vedo che la ragazza ha ancora il giornale sollevato sopra la spalla destra, ma ha gli occhi fissi sullo schermo del computer. Ma che cavolo! Mormora. Si china per leggere le righe scritte in caratteri luminosi. Finalmente abbassa l'arma. Calmati per favore! Legge ad alta voce. Adesso fissa me. Con espressione interrogativa. Credo che la ragazzina si sia appena reso conto che non sono il solito comune topo domestico. Capisce che sono totalmente diverso. Beh, sono blu tanto per cominciare. Probabilmente a questo punto ha notato anche questo. Si china per studiarmi più da vicino. Non mi disturba. Il suo sguardo curioso mi piace molto di più della luce omicida che aveva negli occhi qualche secondo fa. È un passo avanti. E metto un sospiro di sollievo. Mi sistemo il pelo. Lo stiro un po'. Quando vado nel panico tende a incresparsi parecchio. Sei stato tu a digitare quelle parole? Mi chiede. Non mi era mai capitato che un umano si attendesse una mia risposta. Annuisco. Ehm... Calmati per favore! Sono le uniche tre parole che sai scrivere? Te l'ha insegnato qualcuno? Magari in un circo per topi o cose simili? Questo mi fa sorridere. Mi esibisco in un altro rapido t-tap da otto lettere. Quasi. Quasi cosa? A quale domanda stai rispondendo? Quella sul circo per topi o quella su quante parole conosci? Ah ah! Ottima osservazione. Perciò per rispondere mi esibisco sui tasti come fossi il re dei topi nel balletto schiaccianoci che vidi una volta in tv nel luogo orribile. Ecco cosa digito. Scusami non intendevo confonderti con la mia risposta apparentemente vaga alla tua domanda. No, non sono mai stato in un circo per topi. E sì, dispongo di un vocabolario molto ricco, oserei dire voluminoso. Nell'occasione tuttavia ho ritenuto che concisione e chiarezza fossero di importanza capitale. Calmati per favore, a mio modesto parere, comunicavano il mio pressante desiderio con molta efficacia e urgenza. Non sei d'accordo? La ragazza scuote la testa e ride. Assolutamente, conviene. Adesso rido anch'io, di puro sollievo. Digito rapido un'idea che mi è venuta. Che ne dici di rompere il ghiaccio? Ottima idea, rompiamo il ghiaccio. Io sono Eili, tu come ti chiami? Glielo digito. Isaia. Cuore di topo, capitolo 26. Diventa amico di brave persone e aumenterai il loro numero. Eili è davvero simpatica, soprattutto quando non sta per schiacciarmi con un giornale arrotolato. Come fai? Mi chiede. Come digiti tutte quelle parole? Le scrivo la risposta. Piuttosto bene, tu che dici? Ride. Sì, sei davvero sorprendente, specialmente per un topo. Grazie, Eili. In realtà parecchi topi sono sorprendenti, ma è raro che ci venga offerta l'opportunità di dimostrare i nostri singolari talenti davanti agli umani. Tra l'altro, mi scuso se non metto in maiuscolo le parole che andrebbero messe in maiuscolo, come quel E lì poco sopra, e se non sempre utilizzo la corretta punteggiatura. Per me è difficile mettere una zampa sul tasto maiuscola e l'altro sulla lettera che vorrei digitare, soprattutto quando sto digitando una Y o una H o altre lettere che sono al centro della tastiera. Dovrei fare una spaccata e strapparmi i pantaloni se li indossassi, ma non li indosso perché, come avrai notato, sono un topo. Sei anche blu, osserva Eili. E cos'è quella targhetta che hai sull'orecchio? Non ho proprio voglia di rivangare il passato e le cose che hanno fatto a me e alla mia famiglia nel luogo orribile. Perciò mi limito a fare spallucce e a digitare saltellando. Non lo so, è che sono sempre stato blu e ho questa targhetta da quando sono nato. Comunque, tornando alle maiuscole, so che potrei saltare sul tasto di blocco maiuscole, ma allora sembrerebbe che ti stia gridando dietro. Altra risata. Sono felice di non essere andata a scuola oggi. Sei di gran lunga più interessante di una lezione di educazione civica o persino di matematica. Ti piace la matematica? Scrivo. Stavolta è Eili a fare spallucce. Quest'anno a scuola non c'è nulla che mi ci ha molto. Ci siamo appena trasferiti in questo quartiere. Sono quella nuova, capisci? Perciò non ho molti amici. Anzi, non ne ho nessuno. Zero. Nada. I ragazzi della scuola pensano che sono strana. Perché? Chiedo. Lei indica i suoi capelli bianchi e i suoi occhi blu ghiaccio. Per via del mio aspetto, immagino. Le scrivo. Quanti anni hai? Dodici. Beh, non c'è da stupirsi se hai capelli bianchi. Sei vecchia. La maggior parte dei topi vive solo uno o due anni. Per quanto mi riguarda, io spero un giorno di avere dodici anni come te. Allora il mio pelo diventerà bianco come i tuoi capelli e non sarò tanto diverso da tutti gli altri topi. Al mondo ci sono parecchi topi bianchi, non solo nella mia famiglia. Ehi, non è mai facile essere diversi. Vero? A meno che chi ti circonda sia diverso anche lui. Per esempio, mio fratello Abe è rosso ed è molto divertente. Mia sorella Delfinia è viola ed è molto forte. Zoraster è rosa e trova sempre la strada più breve per arrivare al formaggio, anche se lo nascondono nel punto più remoto del labirinto. Mentre chiacchieriamo allegramente, la cagnolina latrante che ho incontrato vicino allo sportello per animali entra impettita in cucina, facendo ticchettare le zampe. E ovviamente guaisce. Non abbaiare, dolce, le dice Eili. Non abbaiare. Dolce ovviamente abbaia. In realtà è buonissima, mi rassicura Eili. Dolce si siede e agita la coda. Quando ansima, la sua piccola lingua rossa la fa sembrare un cagnolino di peluche. Ci siamo conosciuti, rispondo, e concordo con la tua affermazione. Dolce è dolcissima. Questo gioco di parole la fa sorridere. Poi lancia la bomba che mi fa quasi desiderare di non avere mai messo piede in questa casa. Abbiamo anche un gatto. Cuore di topo, capitolo 27. La cura per 50 nemici è avere un amico. Le zampe iniziano a tremarmi, così violentemente, che questo è quello che digito. XC, 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 XC. Eili capisce cosa sto cercando di dire. Non devi preoccuparti, Isaia. Anche Red Boy è dolce. Un gatto dal pelo rosso, quasi quanto quello di Abe, entra furtivo in cucina. Trova un angolo illuminato dal sole, stiracchia il corpo affusolato come fosse una caramella mu, infine si accascia sul pavimento a sonnecchiare al tepore della macchia di luce. Nel frattempo io rimango congelato dalla paura. Ti andrebbe un po' di gelato alla stracciatella? Chiede Eili. Riesco a stringermi nelle spalle con un movimento appena accennato. Non ho idea di che cosa stia parlando. Aspetta qui. Non preoccuparti, vorrei digitare, tenendo sempre lo sguardo fisso su Red Boy. Non muoverò un muscolo. Ma per digitare quel messaggio dovrei utilizzare un sacco di muscoli e come ho già ricordato, i gatti adorano le cose che si muovono, in particolare i topi. Perciò resto immobile e appollaiato sulla lettera C. Eili va al frigo e ritorna con una paletta piena di un ammasso fondente di crema tempestata di scaglie di cioccolato. Inizio a leccarlo nel momento stesso in cui me la mette davanti al naso. È freddissimo ma spettacolare. Red Boy dorme per tutto il tempo, anche quando dolce riprende a uggiolare. Credo che anche la cagnolina voglia un po' di gelato. Il cioccolato non fa bene ai cani, mi spiega Eili. Non so, ai topi. Io le mostro il pollice sollevato mentre lecco il fondo della paletta. Nel luogo orribile tutti i topi potevano mangiare praticamente di tutto, anche se non ci davano altro che crocchette e acqua zuccherata. Eili trova un biscotto per cani da dare a dolce e lo uso come pretesto per andarmine. Devo tornare a casa, digito nel modo più silenzioso possibile, cercando di non svegliare il gatto che dorme, come si usa dire. Spero tornerai a trovarci, mi dice Eili. Mi porge la mano. Amici? Io annuisco e stringo il suo dito roseo. Possiamo essere amici, per il momento almeno. Vedete, ho qualche problema a fidarmi del tutto degli umani, anche di quelli che sembrano simpatici, come Eili. Credetemi, ho le mie ragioni. Un sacco di ragioni. Cuore di topo, capitolo 28. Meglio un volatile tra le zampe che un roditore tra le zanne. Non è per lamentarmi, ma la vita qui a Soborgilandia sta velocemente diventando parecchio irritante. Sto provando a tornare dalla casa della mia nuova amica Eili alla faticente di Mora dei Brofi, quando sul prato davanti a me vedo qualcosa che mi fa tremare di paura. L'ombra di un'apertura alare. Un altro uccello è dritto sopra la mia testa. Intento a valutare se avermi per cena. È una poiana coda rossa, per essere precisi. La riconosco dalle frange a forma di dita ai margini del contorno. Noi topi siamo abilissimi a memorizzare i contorni delle ombre degli uccelli. E una poiana coda rossa è l'uccello che temiamo di più di chiunque altro. Mangiaratti, scoiattoli, conigli, persino altri uccelli. Noi topi siamo solo degli stuzzichini. Corro più in fretta. L'ombra della poiana si fa più grande. Solo che adesso ha portato le ali più vicine al corpo perché, oh no, sta scendendo in picchiata su di me. Dritto su di me. In questo momento dovrei essere pietrificato dal terrore, ma sfortunatamente non ne ho il tempo. Dio dei topi aiutami. È vicina, sempre più vicina. Con una morsa dolorosa, la poiana mi afferra con il becco. Addio, meraviglioso mondo. Mi sarebbe davvero piaciuto rivedere la mia famiglia un'ultima volta. Forse, se sono molto fortunato, nel paradiso dei topi gli angeli canteranno con la stessa suavità di Michaela e non ci saranno più gatti assassini o cani uggiolanti e nemmeno poiane. Mentre attendo il morso del becco, lo scrocchio e il masticare che significheranno la fine della mia vita, avverto una strana sensazione di assenza di peso. Sento anche l'erba svanire da sotto le mie zampe. La poiana non mi sta trangugiando in due rapidi bocconi perché, sorpresa, mi sta portando verso il cielo. Apro a fatica un occhio terrorizzato. Sto volando. Volare è magnifico. È una cosa che prima d'ora ho fatto soltanto in sogno, ma dal momento che si tratta di sogni miei, ad accompagnarmi nel volo non c'era un uccello predatore, come accade invece in questo incubo. Tutto a un tratto vogliamo sempre più in alto, sempre più velocemente. Oh no, i miei baffi sbattono al vento. Il mio mantello blu si sta arruffando freneticamente. Per una volta sono lieto che la poiana mi giudichi tanto appetitoso da non lasciarmi cadere, perché la terra è ormai bella distante. Poi la poiana inclina le ali. Ora stiamo precipitando ancora più rapidamente di quanto siamo saliti. Giù, 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 stiamo scendendo in picchiata tra i rami di una quercia piena di foglie. Le foglie ci sbatacchiano addosso, mentre ci tuffiamo nella loro oscurità verdastra. E infine la poiana apre il becco. Cado come un sasso senza paracadute. Per un attimo mi chiedo se la poiana stia giocando con me come faceva quel malvagio gatto lucifero, facendomi cadere per poi riprendermi come fossi un giocattolo. Ma no, la poiana si sta allontanando, lasciandomi precipitare per conto mio. La discesa si fa estremamente rapida. Adesso sono io che scendo a bomba, dritto verso l'angolo bitorzoluto di un ramo. E conoscendo le leggi della fisica, so che l'andare a colpire quel solido ramo manderà in frantumi ogni singolo osso del mio minuscolo corpo di topo. Cuore di topo, capitolo 29. Se non è zuppa, è la mamma del pambagnato. È un miracolo. Non muoio. Il mio corpo non si va a fracassare contro il ramo duro come la roccia. Faccio un atterraggio morbido. Invece di colpire le frasche bitorzolute dell'albero, atterro in un cestino ben intrecciato di ramoscelli, paglia e roba soffice. Ben fatto, vorrei dire alla poiana, stordito per il sollievo e la felicità. Un tiro perfetto. Gol! Ma poi sento un corro frenetico di cinghetti. Oh oh, mi giro. Sono circondato da uccellini lanuginosi con le bocche spalancate. Da così vicino somigliano a dinosauri affamati fatti di neve. Mi rendo conto con notevole ritardo del perché la poiana predatrice mi ha lasciato cadere qui. Sono nel suo nido e costituisco la cena dei suoi pelosi affamati piccoli dai grandi occhi. Molto materno da parte della poiana andare a procurare la cena per i suoi piccoli. Il suo istinto di occuparsi dei neonati è davvero commovente, a meno che naturalmente la cena non sia io. In effetti uno di questi graziosi piccoli di poiana si scaglia contro di me. Si sta risvegliando anche il suo distinto. Cucciolo vede topo, cucciolo mangia topo. Schivo il suo becco. Lui finisce per mordere l'aria e io scappo verso il bordo del nido. Adesso due degli altri pulcini si trascinano verso di me agitando il becco. Grido una delle prime parole umane che ho imparato a usare. Basta! Ops, credo di averli spaventati. Tutti i pulcini iniziano a pigolare e piangere. Mi devo coprire le orecchie. I loro strilli e squittì sono più laceranti di qualsiasi cosa abbia mai ascoltato in un asilo per topi, compreso il momento appena prima del riposino. Mentre gli uccellini sono occupati a strillare contro il topo cattivo e urlatore che la mamma ha lasciato cadere nel loro box, io colgo l'attimo propizio, salto fuori dal nido e affondo gli artigli nella corteccia di un ramo lì vicino. La corteccia di quercia è ottima per svignarsela, offre un'ottima aderenza. Risalgo di corsa quel ramo, salto su un altro e continuo a scendere dall'albero. Muovendomi rapidamente, a quanto pare corro sempre più in fretta quando lo faccio per salvarmi la pelle, raggiungo il suolo in venti rapidissimi battiti di cuore. Riesco a vedere la casa dei brofi. È talmente conciata da risultare inconfondibile. Nel vialetto è parcheggiato un pick-up. Sul cassone ha una specie di tettuccio simile a un guscio di tartaruga. Credo che questo significhi che il signor Brofi è a casa e che tra poco la famiglia ricomincerà a lasciar cadere quantità industriali di ottimo cibo sotto il tavolo. Mi affretto ad attraversare la strada. Vi ho già detto di quanto irritante stia diventando la vita a soborghilandia? Perché, indovinate un po' chi sta attraversando velocemente la carreggiata insieme a me? Esatto, la stessa ombra alata. Mamma Poiana mi sta di nuovo inseguendo. Niente repliche, vorrei gridare, ma non lo faccio. Sono troppo occupato a svignarmela. Fortunatamente i brofi non sono molto solerti nel tagliare il loro prato. I fili d'erba ondeggiano quasi all'altezza del portico. È come se avessero un campo di grano privato. Malgrado la sua vista eccellente, la poiana coda rossa che volteggia sul prato perde le mie tracce quando inizio a strisciare sulla pancia. C'è anche una gradevole brezza che fa ondeggiare le erbacce come onde sull'oceano. Così i miei movimenti non tradiscono la mia posizione. Mamma Poiana abbandona la caccia. La scorgo alzarsi in volo in cerca di una nuova preda. Forse riuscirò a vedere la luce di un nuovo giorno. O forse anche no. Quando sei un topo, le tue probabilità di sopravvivenza giornaliere sono sempre un po' aleatorie. Cuore di topo, capitolo 30. Gli sciocchi si precipitano dove i topi temono di camminare. Mi infilo nella tana giusto in tempo per la serale caccia al cibo. Sono pronto ad affrontare di nuovo il pericolo? Assolutamente no. Sono pronto ad affrontare di nuovo Lucifero? Decisamente no. Ma quando Gabriel chiede chi è disponibile per una caccia al cibo? Alzo la zampa e mi offro volontario. Forse perché vedo un nuovo membro nel gruppo di cacciatori di questa sera. Michaela. Per quanto ci sia rimasto male quando mi ha spiegato la mia diversità, non posso fare a meno di ammirarla. Ha un'aria magnificamente fiera con quella spada di plastica verde. Ne ho viste alcune simili nel luogo orribile, quando i lunghi camici diedero la loro festa di Natale lo scorso inverno. Quelle spade di plastica colorate infilzavano trionfanti dei cubetti di formaggio arancione. Prendo anch'io il mio strumento da caccia, un bastoncino di cartone con dei tamponi di cotone alle estremità. Immagino per ripulire il cibo rimasto sul pavimento oltre la regola dei 5 secondi. Sono sorpreso e felicissimo di vederti nel gruppo di cacciatori. Dico a Michaela mentre ci dirigiamo verso l'armadietto sotto il lavandino. In questa famiglia, mi spiega, ci avvicendiamo nelle mansioni. Tutti svolgiamo a turno i diversi compiti. Ah ah, rispondo agitando i baffi come farebbe mio fratello Rodolfo. Pensavo mi avessi detto che le ragazze lavano solo i piatti. Non che la cosa mi disturberebbe. Tra poco mi dirai che stai per cantarmi una canzone. Dimmi solo quando. Probabilmente mai. Riuscirai ad accettarlo? In realtà preferirei di gran lunga. Gabriel si porta una zampa sulle labbra per zittirmi. Silenzio, Esaia. Non vogliamo che Lucifero ci senta arrivare. Hai ragione, sussurro. Ti prego di voler perdonare il mio incauto tentativo di shhh. Tutti e sei facciamo forza con le spalle sulla porta dell'armadietto. Come sempre è piuttosto difficile da spostare con tutti gli indumenti ammonticchiati dall'altra parte. Uno alla volta scivoliamo fuori dallo spiraglio e ci nascondiamo nell'ombra sotto gli armadietti. All'improvviso sentiamo un tintinnio. Ma non è un campanello? e neppure la targhetta di Lucifero. È qualcosa di metallico che risuona in lontananza. Ho già sentito questo rumore. Umani! Sussurra Gwindel. Ci andiamo tutti a nascondere sotto il mucchio di abiti da lavoro verdi. Ancora una volta mi chiedo dove ho già sentito questo odore. Ma non per molto il tintinnio si avvicina. Sbircio fuori dal taschino di camicia in cui mi sono intrufolato e vedo l'origine del rumore. È un mazzo di chiavi attaccato alla cintura strenuamente allacciata alla vita del signor Brofi. Ma certo avrei dovuto capirlo prima. Ecco perché la pila di abiti da lavoro ha un odore tanto familiare. Ho già visto quel mazzo di chiavi. Sono le chiavi di tutte le porte che tengono imprigionata la mia famiglia. Alzo lo sguardo e osservo con attenzione la faccia del signor Brofi. È l'uomo delle pulizie del luogo orribile.